Benvenuti al corso di formazione della RetroTech. Durante questo corso parleremo delle apparecchiature per la misurazione di perdite d'aria negli appartamenti, case e condotte d'aria. Il sommario del corso che vedremo include vari punti, tra cui, per esempio, una sezione sui manometri, strumenti piuttosto utili i quali si possono considerare il cuore di qualsiasi tipo di strumentazione per la misurazione di dispersioni d'aria. Saranno svolti vari test con il misuratore di pressione e con il ventilatore, per farvi vedere il loro funzionamento. Parleremo anche del Blower Door Test, partendo dagli elementi base. Ad esempio, vedremo come scegliere la giusta direzione per la disposizione del Blower Door e la sua installazione, come avviare il manometro, l'impostazione manuale ed automatica del test di pressione e che tipo di risultato si può ottenere con il DM2. Vedremo infine il software del Multipoint Test. Dato che spesso il fattore evento è uno dei maggiori ostacoli nell'esecuzione del Blower Door Test, vi faremo vedere come farà a limitare le fluttuazioni di pressione legate ad esso. Infine, ci sarà la sezione dedicata alle dispersioni degli appartamenti ed affronteremo anche la questione delle calibrazioni, verifiche sul campo e risoluzione dei problemi.